Per spiegare l'importanza della festa delle Forze Armate che si terrà il 4 novembre, la Ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, ha incontrato gli studenti dei licei di Ostia e di tutta la provincia presso la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, in Via delle Fiamme Gialle. Lì si è svolto un incontro con oltre 500 ragazzi. Tutti noi che abbiamo una responsabilità pubblica, ha dichiarato Trenta, agiamo per l'oggi ma soprattutto per il domani e iniziative di questo tipo sono importanti perché il futuro si costruisce conoscendo la storia. Le Forze Armate sono una colonna portante anche quando tutto è tranquillo. Sono i carabinieri che ogni giorno rischiano la vita, la Guardia di Finanza, il Genio. È un mondo che rappresenta l'unità d'Italia. Ha preso parte all'evento anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Ostia è un territorio nel quale c'è bisogno della nostra presenza, ha commentato. È importante rafforzare il dialogo tra i cittadini per bene e rinsaldare il senso di comunità che a volte sembra smarrito. Le istituzioni sono la cerniera, non dobbiamo far sentire sole le persone cui vengono negati i diritti. Molte volte, ha aggiunto il comandante della Guardia di Finanza Giorgio Toschi, è dalla riscoperta del passato, dal valore messo in campo nei momenti difficili, da chi ci ha preceduto che può maturare la consapevolezza su chi siamo veramente, una consapevolezza quanto mai determinante per fornire quel contributo di cittadinanza attiva alla base dello sviluppo di una società sempre più giusta e virtuosa.